E ora Lino di Mameli E ora Lino di Mameli E ora Lino di Mameli La più cordiale buona serata agli amici della palla a spicchi sintonizzati Siete collegati con il Palaravissa di Pavia Ventesima giornata del campionato di Serie B Old Wild West Winteras Omnia Basket che va ad ospitare la sovrana pulizie Siena Partita nella quale Pavia ha davvero tutto da perdere Visto che i pavesi sono reduci da due successi in fila E sono al termine di una poderosa risalita Arrivati davvero ad un passo dall'ottavo posto che vorrebbe dire playoff Sono ad un passo dalla possibilità con una vittoria questa sera Di portare il loro record al 50% Attualmente la truppa di Pat Baldiraghi è assistata su un record che dice 9 vittorie e 10 sconfitte Sappiamo che uno score attorno al 50% di vittorie Rappresenti una sorta di garanzia o quasi di centrare poi la post season Quindi occasione davvero ghiotta da non fallire per Pavia Pavia reduce dal successo interno importantissimo di domenica scorsa con Piombino E poi dal blitz vincente sul parquet della Robur Varese Partita drammatica, partita portata via con un overtime Nel quale ancora una volta la truppa di Baldiraghi ha confermato di aver raggiunto un equilibrio Una compattezza che raramente abbiamo visto durante l'anno E che è stata sicuramente decisiva per tenere nel momento di maggiore difficoltà E poi imporre comunque la qualità di un paio di giocatori di classe Come Mascherpa, come Torgano nell'overtime Quanto riguarda Siena, la squadra senese fin dall'avvio del campionato Si dibatte in posizioni assolutamente precarie Attualmente è penultima Il record dice 4 punti, 2 vinte, 16 perse Il problema è che una di queste 2 vinte arrivò in un drammatico sabato sera Ospitando Pavia Quindi Pavia che al di là delle motivazioni che sono state sottolineate nel pregara dal coach, dal GM Ha come motivazione principale quella di cancellare l'onta di una sconfitta Che davvero ha fatto molto molto male in avvio di campionato Se pensate appunto a questi due punti letteralmente gettati Pavia ora sarebbe tranquillamente dentro ai playoff Sarebbe a pari con Varese, con scontro diretto favorevole Quindi avrebbe sicuramente meno patemi di classifica Tutto pronto per partire Fischiano i signori sconfienza di Costignoli d'Asti e Naftali di Torino All'andata abbiamo già sottolineato Anche se intendiamo rimuovere il ricordo al più presto Finì 68 a 62 per la truppa senese di Maurizio Tozzi Squadra alla Virtusiena che ha confermato praticamente in blocco Il gruppo che ha vinto la Serie C Toscana E che ha operato poi qualche innesto Per esempio rispetto al match di andata Manca il playmaker Orsini che è stato sostituito in corso d'opera da Maccaferri Ora diamo un'occhiata a quelli che sono i quintetti di partenza Vediamo cambiato il centro con il numero 8 Simeoli Vediamo poi Nepi Vediamo il numero 23 Casoni Vediamo l'ala piccola Pucci E a completare il quintetto c'è Imbro Per quanto riguarda invece lo starting five in casa Vinteras È quello abituale quindi con Di Bella, con Mascherpa, Benedosi Spatti e Riccardo Crespi Reduce da una ottima partita in quel di Varese Ricchi è andato in doppia-doppia In particolare nei momenti in cui è riuscito a gestire i falli Ha inciso in maniera davvero importante Ha inciso in attacco, ha inciso anche in difesa Andando a chiudere Varchi Andando a stoppare Tutto pronto per partire appunto Un solo risultato per Pavia Che deve assolutamente portare a casa il referto rosa Discreta ancora una volta la cornice di pubblico Malgrado non si tratti di un incontro di cartello La cortesa la vince Simeoli Che però devia il pallone a fondo campo Quindi primo possesso in attacco per Pavia Niccolò Benedusi Ad occuparsi delle operazioni di ripresa del gioco Partita che parte in questo momento Pana nelle mani di Mascherpa C'è subito l'uscita forte di Simeoli in raddoppio Siena che cerca di andare aggressiva a raddoppiare Crespi che consegna Mascherpa Che va da tre punti E va a realizzare un canestro di talento Al quale ci ha abituati Tre di vantaggio per Pavia Pana nelle mani di Simeoli Che lavora sul perno Poi prova con una meccanica di tiro davvero molto strana E prende la prima inchiodata di Riccardo Crespi Quindi stoppata e palla recuperata E ora in attacco viene attivato da Spatti Buono l'alto basso Fra i due lunghi di Casa Vinteras Pavia che schizza avanti 5 a 0 Quando sta per andare agli archivi Il primo giro di orologio Pana nelle mani di Imbro Che va da Casoni Ancora per Simeoli Che sull'età che va a giocarsi l'uno contro uno Va per il sottomano Sbagliandolo Mascherpa con palla in mano Ora va da Simeoli C'è però la buona difesa in anticipo di Casoni Che va a recuperare il primo pallone per i toscani Pucci che ha una bezzità di attaccare Benedosi Poi va ancora da Simeoli Che è stato costantemente cercato Buon lavoro sul perno Questa volta di Simeoli Che va all'appoggio di mano destra Primi punti per la Virtusiena 5 a 2 avanti Pavia Di Bella con palla in mano La doppia uscita di Mascherpa e Benedosi Si va dal lato di Benedosi Che ha una bezzità di attaccare E poi fatica a mantenersi in piedi Riesce miracolosamente a tenere il controllo del pallone Scarica per Mascherpa Accoppiato a Imbro C'è il fallo sul palleggio di Giulio Mascherpa Commesso dal numero 12 Gerlando Imbro Primo fallo di squadra per Siena Rimessa in zona d'attacco per la Vinteras L'uscita di Capitano Dibbo Che prende il blocco di Crespi Poi batte facile Va fino in fondo Nepi si è fatto battere con troppa facilità Da una finta del Capitano Sono primi due per Fabio Di Bella 7 a 2 dice il tabellone in via Treves La soluzione dal palleggio sbagliata da Pucci Mascherpa che va a rimbalzo Però non riesce a tenere il pallone in campo 5 di vantaggio per Pavia La ricezione di Casoni Che lavora in palleggio contro Spatti Va fino in fondo Si prende una soluzione forzata La sbaglia Rimbalzo controllato da Crespi Pavia che può ripartire Va in contropiede primario All'appoggio Assist di Di Bella Due punti comodi per Alessandro Spatti Pavia che ha approcciato con determinazione Il match Ora soluzione dal palleggio sbagliata E altra situazione di contropiede primario C'è la chiusura su Crespi Che sbaglia l'appoggio Possibile un contatto Che però non viene sanzionato 7.13 da giocare Siena che può tornare in attacco Il tiro da 3 punti Del numero 23 Casoni Che va a bersaglio 9.5 dice il tabellone in questo momento 6.56 da bruciare In questo primo quarto di gioco Crespi molto fuori Va nel tentativo di premiare Il taglio back d'ordi di Bella Poi invece chiude il palleggio C'è il fallo fischiato a Simeoli Primo fallo per il centro toscano Di Bella ricevere A premiare il Ricciolo di Mascherpa Che lavora in palleggio L'ha doppiato Passaggio skip rischioso Controllato comunque da Di Bella Pavia che cambia il lato Va da Crespi che prende un'ottima linea di fondo E va a realizzare Riccardo è decisamente in fiducia 11.5 Inbro con palla in mano Va fino in fondo Si prende una soluzione dal palleggio Prende il fallo di Mascherpa E va a realizzare Possibilità quindi per Inbro Di andare a perfezionare Un gioco da 3 punti Celando Inbro che è fratello di Matteo Inbro Giocatore giovane Prospetto interessante Visto in maglia Virtus Bologna Completa Inbro il gioco a 3 punti Quindi un possesso di vantaggio per Pavia 11.8 6.18 da giocare L'uscita di Mascherpa Benedusi sui blocchi Riceve Ora va fino in fondo Prende il contatto Resiste Sbaglia Rimbalzo controllato da Simeoli Benedusi che chiede in effetti Ha giusta ragione Un fallo a favore Non viene fischiato Sbaglia Casoni dall'arco dei 6.75 Ma via che può ripartire Benedusi che vuole andare da Crespi Crespi che lavora contro Pucci Per sfruttare il mismatch Pucci che prova ad andare a difendere in anticipo Mette però fallo Terzo fallo di squadra per la sovrana Polizia Siena Benedusi che sta continuando Nelle sue rimostranze Di Bella che esce Tira tre punti Sbagliato Sbaglia la soluzione dai 5 metri Il capitano Pavese Quindi Siena che ha la possibilità di Avere il possesso del pareggio 11.8 avanti la Vinteras 5.46 da giocare Il palleggio di Nepi Che la chiude Va da Pucci Che ha una soluzione All'altezza della lunetta Sbaglia ma a rimbalzo C'è il deserto E nel deserto dei Tartari Casoni va a mettere Il proprio quinto punto Uno di vantaggio Per Pavia 11.10 Spatti che va da Crespi Crespi che lavora sul perno Torna fuori da Spatti L'hand off con Fabio Di Bella Una finta Il pick and roll con Spatti Che rolla ancora una volta Con grande rapidità E' facile la lettura Per un professore come Fabio Di Bella Due punti comodi Per l'ala di Gavardo 13.10 Quindi un possesso pieno di vantaggi Ora c'è l'intercetto di Benedosi Che va fino in fondo A realizzare Per i due punti del match Per l'ala Ligure Fabio che torna avanti Di 5 15.10 Entrati negli ultimi 5 giri di orologio Simeoli che riceve Va da Pucci E c'è il fallo in attacco Il blocco irregolare Di Casoni Si è tornato a 23 Casoni in inizio Primo fallo Sporisce il bonus 4.42 Per andare al primo pit stop Vinteras avanti 15.10 Vinteras che sta Tirando con Ottimi percentuali dal campo 6.9 Da due punti E uno da tre Per la truppa di Patbal di Raghi Pronto il doppio cambio Situazione che abbiamo visto Anche a Varese Anche se a Varese Era arrivata con Molto più anticipo Anche perché l'incipit Dello starting five Non era stato ottimale Quindi cambio fuori Mascherpa E spatti dentro Torgano e Manuelli Possibilità di allungare A cronometro fermo Per Pavia Sbaglia il secondo tiro libero Di Bella 16.10 Quindi sono due possessi pieni di vantaggio per Pavia Il consegnato per Imbro Che prende il blocco di Simeoli Va fino in fondo C'è la chiusura difensiva Della retroguardia pavese Imbro prova ad attivare il collegamento con Simeoli C'è però la buona difesa d'anticipo di Bella Che recupera E ora Buona palla di Torgano Per Crespi Che non riesce però a controllare Quindi c'è La palla persa Buona comunque l'idea di passaggio di Marco Torgano Che ha cercato di premiare E' importante che Crespi entri in partita in attacco C'è un cambio chiamato da Baldiraghi Torna spatti Va a prendere riposo Riccardo Crespi Che si accomoda in panchina con 4 punti, un rimbalzo e due falli subiti 16-10 Dice il tabellone qui in Via Treves 3-54 da bruciare Palla le mani di Pucci Che lavora in palleggio Va immancabilmente da Simeoli Che si giocherà uno contro uno Semigancio Sinistro sbagliato L'imbalzo va con grande vemenza Nicola Benedosi La via può ripartire Una finta del Dimo La virata centroare Però si prende la stoppata Del numero 14 Nepi Che va da Embro Si apre poi in angolo Una bella idea di tirare da due punti Va a realizzare Quindi doppia buona giocata per Nepi Che prima ha stoppato di Bella E poi ha trovato questa soluzione da due punti Che porta i Toscani a meno 4 16-12 3-14 In questo primo periodo di gioco Manuelli attiva Torgano Aperto da tre punti Prima bomba A bersaglio Per Toghi Giocatore fondamentale In quel di Varese Due triple Hanno consentito Pavia di acciuffare Il supplementare Dopo una partita in cui Peraltro L'esterno di Segrate Non aveva sicuramente Tirato con il massimo Delle percentuali Ma quando uno è un realizzatore Ora c'è il classico movimento Con il classico appoggio Stile cameriere di Simeoli Che qui rende il contatto Fischiato ad Alessandro Spatti Primo fallo per Spatti Ora Cambio per Capitano Di Bella Sul parchè Pippo Fazzioli 7 di vantaggio per Pavia In lunetta va Simeoli Giocatore cresciuto Nel vivaio di Caserta e di Biella Giocatore che ha appunto Una meccanica di tiro Davvero particolare Simile ad un getto del peso 1-2 per lui Palla alle mani di Fazzioli 19-13 Quindi sempre due possessi pieni Di vantaggio per Pavia Che attacca in questo momento Palla alle mani di Manuelli Ora c'è la rollata Di Spatti Il flottaggio difensivo Di Imbrò Sul quale Spatti si schianta Arbitri che non Fischiano il contatto Imbrò con una mezza di idea Di attaccare Attende il pick and roll Di Simeoli Poi chiude il palleggio Va da Casoni Con Simeoli Lontano da Canestro Va in avvicinamento Lavora sul perno E va con il Semigancio sinistro E va a realizzare Quinto punto di Simeoli 19-15 Si sta tenendo in partita I senesi Manuelli Prende il blocco di Spatti Poi torna fuori da Torgano Per Fazzioli Aperto da tre punti Sbaglia Pippo Rimbalzo comodo Controllato da Casoni 1.46 da giocare In questo Primo periodo Imbrò Il cambio difensivo Ora è accoppiato A Torgano Prova a Mettergli il jumper In faccia Sbaglia e non di poco Ma tornata terrificante Rimbalzo controllato La Beneduzi Ma via che torna in attacco Torgano per Manuelli Il blocco di Spatti Manuelli che però Ora va a attivare C'è il buon cambio di lato Di Spatti Per la tripla di Beneduzi Sbagliata Rimbalzo controllato Da Simeoli Quattro da recuperare Per i senesi Nepiche Lavora in palleggio Per Imbrò Per Casoni Che si gioca Il mismatch Marcato da Fazzioli Va all'appoggio Al cristallo Sbagliando Fazzioli che è riuscito Comunque a limitare I danni In questa situazione Di evidente Svantaggio fisico Torgano Che si apre da tre punti Mette palla per terra Prende il contatto Falloso Del numero 23 Casoni Siena che in bonus Quindi saranno Tiri liberi Per Marco Torgano Doppio cambio Anche per Siena Dentro Stepanovic E Necchi Fuori Casoni E Imbrò Per questi ultimi 49 secondi Torgano A Cronometro fermo Sempre morbida L'esecuzione Fa via che scollina Quota 20 In questo momento 21 5 per Torgano 6 di vantaggio Per Pavia 21-15 46 secondi Da giocare Nepin Palleggio Marcato da Fazzioli L'uscita di Pucci Per Stepanovic Sotto da Simeoli Ovviamente Il principale Polo Offensivo Toscano Toscano Gancione Vecchio Stampo Sbagliato Rimbalzo controllato Da Marco Torgano 27 secondi Quindi Pavia Che andrà a gestire L'ultimo possesso Di questo Primo quarto Lavoro in palleggio Di Fazzioli L'uscita Di Simeoli Ora il passaggio interno Per Spatti che sbaglia Rimbalzo in attacco Di Torgano Che sta diventando Un vero specialista In materia E ora Pavia Può chiudere con palla in mano La penetrazione di Emanuelli Per Fazzioli Che non prende la tripla L'hesitation Va dentro Sbaglia Torgano Con una volta Rimbalzo Si chiude qui Si chiude il Primo periodo 21 Pavia 15 La sovrana Pulizie Siena Andiamo a vedere Quelli che sono I bottini Individuali Per Pavia Sono 5 di Torgano 2 di Benedosi 4 di Spatti 4 anche per i Crespi 3 di Mascherpa 3 di Di Bella Quanto riguarda invece Gli ospiti 2 di Neppi 5 di Simeoli 3 di Imbrò 5 di Casoni Per settuali dicono Pavia 6 su 13 2 su 4 Da 3 punti Siena 5 su 15 Da 2 punti 1-2 Da 3 punti 4 di Simeoli 5 di Simeoli 5 di Simeoli 5 di Simeoli 6 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 di Simeoli 5 di Simeoli 6 di Simeoli in possesso prato tutto pronto per ripartire dentro Maccaferri per quanto riguarda gli ospiti si va ancora una volta da Simeoli che si gioca uno contro uno con il nuovo entrato del vecchio che lo tiene fisicamente con parecchio mestiere arbitri che consentono questa difesa piuttosto ruvida quindi prima ottima giocata per il nuovo arrivo Fabio Del Vecchio ricordiamo iniziò il campionato ad Olginate con le mani di Torgano si va sotto la Del Vecchio e c'è il fallo fischiato a Simeoli è il secondo fallo per il centrosenese pronto a tornare sul parquet anche il braccio armato pavese Giulio Mascherpa minuti per Niccolò Benedusi rimessa di Mascherpa fraintendimento con Manueli e palla recuperata dal numero 7 Capitan Bianchi Miechi in palleggio va fino in fondo si prende una soluzione molto forzata da due punti sbaglia rimbalzo agevolmente controllato da Del Vecchio Mascherpa che ora va a giocare da playmaker con Fazzioli che si apre in guardia fa le mani di Torgano per Manueli lavora in palleggio si butta dentro è chiuso scarica per la tripla di Torgano che viene letteralmente sputata dai ferrici però buon lavoro ha rimbalzo l'attacco di Manueli che con il tuffo ottiene il possesso addizionale Valdiraghi apprezza questa vena barricadera dei suoi che a dispetto appunto della classifica difficilare degli avversari hanno approcciato con massima concentrazione con assoluta determinazione come giusto che sia Mascherpa che va al ferro prende il fallo di Stepanovic e andrà in lunetta con due tiri liberi di Giulio Mascherpa mette il primo il Pavese Purosangue 26enne primo realizzatore della truppa Pavese con 18 a serata 2-2 per Mascherpa sono 5 per Giulio 23-15 8-43 per andare all'intervallo lungo Maccaferri in palleggio prungato prende il blocco di Stepanovic poi chiude il palleggio va dal numero 7 Bianchi che spara 3 punti sbagliando ribalzo lungo è controllato da Fazzioli Mascherpa che prende il blocco penetra scarica palla che gira molto bene per linee esterne c'è una tripla aperta di Torgano che sbaglia ma ottimo tiro che Pavia si è andata a prendere Maccaferri in palleggio marcato da Mascherpa lo scarico per Simeoli che invece d'attaccare scarica per il numero 15 Gniecchi che sbaglia da tre punti rimbalzo controllato da Stepanovic su Stepanovic c'è il fallo una spinta di Manuelli primo fallo per Manuelli primo fallo anche di squadra per Pavia rimessa in zona d'attacco per la Virtus Torgano Torgano che va attaccare forte va molto vicino all'intercetto se la Cavaniecchi che ora mette palla per terra va attaccare Torgano la chiusura di Torgano e infrazione di passi del numero 15 quindi ottima difesa per Marco Torgano pronto a tornare sul parquet Gerlando Deimbrò Borromelli che supera la metà campo l'uscita di Mascherpa che ha una mezzidina da andare da Del Vecchio ci va adesso Fazioli l'hand off tra Del Vecchio e Mascherpa cambio difensivo Mascherpa accoppiato a Simeoli vediamo se lo attaccherà in palleggio poi chiude il palleggio ribalta al lato per Fazioli tre secondi per chiudere Fazioli costretto a forzare sbaglia rimbalzo controllato da Simeoli e c'è ancora una volta Mascherpa che va aggressivo sulla ripartenza senese e va a recuperare palla quindi comunque Pavia che sta piacendo per selezione di tiri ma anche per mentalità per voglia di sbucciarsi le ginocchia in difesa il palleggio di Mascherpa che va con molteplici cambio di mano va a prendersi la sua classica soluzione in traffico va a realizzare sono sette per Mascherpa e sono dieci di vantaggio per Pavia 25 a 15 sette da giocare in questo secondo quarto si apre si apre da tre punti e spara dalla lunga Stepanovic sbagliando rimbalzo solo maglie bianco-bru pavesi ribalta il lato Mascherpa poi palla che torna le mani del numero 8 Pavese che va sul blocco di Torgano va a premiare il taglio di Torgano che sbaglia un canestro decisamente semplice per un attaccante di vaglia come lui rimangono dieci le lunghezze di margine per Pavia ora si andrà da Simeoli accoppiato difensivamente a Fazzioli del vecchio che sul cambio va comunque a mettere pressione e arriva un altro recupero quinta palla persa per Siena recupero per Pavia minuto di sospensione chiamato dalla panca toscana dieci lunghezze da recuperare per i senesi 25 a 15 6 24 in questo da giocare in questo secondo periodo tutto pronto per ripartire striscione dei tifosi della tribunetta pavese Ileni e Gianni portateci in alto ovviamente chiaro che l'uscita dei primi rumors relativi al possibile ingresso in società di un marchio importante hanno suscitato entusiasmi sopiti da anni nel città in Rival Ticino Il GM Marco Pignanioli è stato molto chiaro questa mattina in un'intervista al nostro sito non smettendo quelle che sono le indiscrizioni uscite a mezzo stampa confermando che le trattative sono in atto e che ci sono buoni margini per chiudere positivamente questo tipo di partnership parla le mani di Mascherpa che si prende il tiro in step back e va a realizzare sono nove per Mascherpa 27 a 15 12 vantaggio per Pavia Palleggio arresto e tiro è mandato a bersaglio da Bianchi 10 di margine per la Vinteras Mascherpa supera metà campo l'end off con Del Vecchio il blocco di spatti che poi va a rollare non viene premiato da Mascherpa ora chiude il palleggio il numero 8 Pavese va da Manuelli 10 secondi per chiudere il possesso Manuelli che va attaccare il ferro e va a Ralezzare per i due punti per il quasi ingegnere Daniele Emanuelli pronto il cambio pronto sul cubo dei cambi Fabio Di Bella a rientrare sul perché ricezione per Imbro che prende il blocco di Indur giocatore dal fisico pazzesco classe 2000 prodotto del Vivaio Virtus fisico davvero clamoroso riposo per Manuelli torna Di Bella 5-10 da giocare Maccaferri con palla in mano va da Inbro il cambio difensivo accettato quindi spatti su Inbro ora non riesce l'innesco interno per attivare Stefanovic marcato una mascherpa ora viene premiato il taglio di Indur che sbaglia la soluzione in rovesciata e c'è il fallo di Maccaferri fallo antisportivo fischiato a Maccaferri su Giulio Mascherpa due tiri liberi per Giulio Mascherpa 29-17 4-52 per bruciare il secondo quarto Mascherpa che va a realizzare a cronometro fermo e va in doppia cifra il primo giocatore a andare in doppia cifra sono 10 per Giulio diventano 11 sarà possesso addizionale per la Vinter 31-17 4-52 da giocare fazione ad occuparsi delle operazioni di ripresa del gioco alla ricezione di Capitano Di Bella Spatti che prova ad attivare nel pitturato del Vecchio che torna da Fazzioli che mette palla per terra attacca lavora sul perno va col sottomano sbaglia e Spatti però corregge in sesto punto per Alessandro Spatti ora Siena che non ci pensa due volte spara da tre punti con Bianchi sbagliando perché avrebbe la possibilità di attaccare in soprannumero però non viene chiamato l'uomo di Bella e quindi da dietro arriva il pallone recuperato da Siena secondo fallo di Fazzioli ora cambio torna Crespi per Del Vecchio che ha giocato minuti di buona consistenza difessiva quello che assolutamente Baldiraghi vuole da lui Maccaferri in palleggio prolungato marcato da Di Bella si va da Dur che attacca Crespi poi invece scarica per Bianchi marcato da Fazzioli Bianchi penetra fida a Stepanovic che sbaglia rimbalzo controllato da Dur Spatti che controlla e va vicino all'autocanestro il ferro lo grazia palla controllata da Pavia Di Bella che va da Crespi Dur che se lo perde Crespi che si mangia un rigore poi però controlla rimbalzo d'attacco e va a realizzare in semigancio il sesto punto del suo match 35 a 17 3 a 37 da giocare Maccaferri che cambia lato per la tripla di Bianchi che va a realizzare 15 vantaggio per Pavia 35 a 20 Mascherpa a lavorare in palleggio sul blocco di Crespi Fazzioli aperto da tre punti al suo tiro e Pippo Fazzioli lo manda a bersaglio playmaker trevisiano mano morbidissima 38 a 20 altra palla persa per Siena in bro non controlla sesta palla persa per i toscani triplo cambio chiamato da coach Tozzi per Pavia invece Baldiraghi va con scelte più misurate quindi un cambio dentro Benedusi è uscito Fazzioli la ricezione di Mascherpa l'uscita di Di Bella che va a destra sul blocco di Crespi scarica per Spatti che in mezza ruota va a prendersi il suo classico tiro dai 5 metri 8 per Alessandro Spatti e sono 20 tondi di vantaggio per Pavia che doppe gli avversari 40 a 20 2.35 per andare all'intervallo e ora c'è il blocco irregolare di Simeoli piuttosto evidente con grande coraggio Benedusi è andato a prendere un colpo al petto terzo fallo per Simeoli è recuperata di del ministro della difesa al secolo Niccolò Benedusi di Bella che supera la metà campo per Benedusi che attende il posizionamento sulle tacche di Riccardo Crespi che si gioca l'uno contro uno il semigaccio ancora una volta a bersaglio ottavo punto per il giocatore del 1997 Pucci il consegnato per Inbro si va da Bianchi con una finta batte Benedusi poi scarica palla per Casoni che sbaglia rimbalzo controllato da Spatti ultimi due giri di orologio che ci separano dal intervallo lungo Mascherpa per Di Bella il pick and roll tra Mascherpa e Crespi palla invece ribaltata ottimamente in angolo per la tripla aperta che il quarantenne Pavese va a imbucare e Vinteras che ovviamente dilaga in questo finale 45 a 20 1.30 da giocare Inbro che chiude il palleggio va da Nepi che attacca si prende una soluzione da due punti sbagliandola Crespi che giganteggia rimbalzo Pavia che controlla 45 a 20 1.11 da giocare Spatti con palla in mano per Mascherpa vorrebbe andare a premiare Crespi a premiare il mismatch Inbro che finisce per le terre Crespi che non controlla quindi palla persa per la Vinteras ultimo minuto di gioco Vinteras avanti 45 a 20 palleggio prolungato di Nepi accoppiato difessivamente a Spatti si va a giocare il vantaggio fisico prendendo posizione profonda nel cuore del pitturato il numero 23 Casoni fallo di Mascherpa che secondo i fischienti piemontesi avrebbe trattenuto cambio per Mascherpa secondo fallo per lui dentro Faziolli rimessa in zona d'attacco per Siena Nepi per Casoni va da Imbrò che mette palla per terra va a attaccare Faziolli si prende una soluzione in svitamento sbagliandola rimbalzo controllato da Crespi 31 i secondi per chiudere i giochi di Bella per il taglio di Crespi che va a realizzare e riesce come un ballerino a controllare il corpo evitando il fallo di sfondamento e doppia cifra anche per Riccardo Crespi 10 per lui 11 per Mascherpa sono i due migliori realizzatori in casa Vinteras ora Nepi che splitta il blocco va a spezzare il raddoppio quindi va a realizzare un secondo di Bella che va vicinissimo al bersaglio grosso da metà campo finisce qui quindi 47 a 22 avanti facile Vinteras andiamo a riepilogare quelli che sono i fatturati individuali per la Vinteras sono 6 di spatti 3 di fazioni 6 di Di Bella 12 di Crespi 2 di Benedusi del vecchio è entrato senza analizzare 5 di Torgan 11 di Mascherpa 2 di Manuelli per quanto riguarda Siena sono 5 di Bianchi 5 anche per Casoni 4 di Nepi 3 di Imbro 5 di Simeone ribadendo ribadendo il parziale metà gara Vinteras avanti 47 a 22 ci congediamo momentaneamente poi ci risentiamo per la ripresa delle ostilità di nuovo in collegamento con il Paravizza intervallo che sta per ultimarsi vantaggio largo per la Vinteras tabellone che scrive per il momento un verdetto davvero molto interessante molto positivo per Pavia Pavia che sta tirando con il 56% da 2 punti e il 44% da 3 punti Siena con il 32 da 2 e il 25 da 3 punti Senesi inchiodati a quota 22 26-7 il parziale del secondo periodo che ha spaccato letteralmente la partita ora vediamo come tutto pronto per ripartire Baldiraghi va con lo starting five abituale in questi ultimi match quanto riguarda i Toscani invece Nepi in bro Pucci Simeoli e il numero 20 Stepanovic quindi c'è una variazione rispetto alla scelta di inizio match Spatti con palla in mano Bada Crespi che va a premiare il taglio di Di Bella che si stampa contro il tabellone senza che sia sanzionato nessun contatto quindi spriorore per il capitano Pavese ora sulla partenza in palleggio di Pucci c'è il fallo speso da Crespi Crespi è il suo primo fallo del primo fallo di Spatti Stepanovic che riceve va da Pucci Redusi molto aggressivo su di lui palla Simeoli c'è il raddoppio di Spatti Simeoli che lavora sul perno poi scaglia il suo tiro assolutamente atipico Mascherpa per Spatti che si apre sbaglia da due in bra controllo e prova a far partire la transizione tripla in transizione di Nepi che va a realizzare sicuramente uno dei più positivi il numero 14 a disposizione di coach Tozzi 7 per Nepi Di Bella va da Crespi in angolo per Spatti che ribalta un missile controllato a fatica da Benedusi Mascherpa costretto a forzare sullo scadere dei 24 secondi e sbaglia necessario ovviamente che Pavia non si sieda pigramente sul vantaggio largo Stefanovic palla per terra consegnato per Nepi che si butta dentro chiude il palleggio va da Simeoli che lavora sul perno si prende la stoppatona di Riccardo Crespi che ora va ancora una volta per provare a stoppare abbassa le braccia fallo del centro di Saluzzo secondo pallo per Riccardo Crespi Simeoli a cronocrofermo la possibilità di ridurre a 20 il gap fra le due squadre sbaglia invece il primo davvero terrificante dal punto di vista estetico la meccanica di tiro di Simeoli che se non è bellissima ha in azione davvero diventa molto molto brutta da vedere a cronometro fermo ma giocatore che ha fatto comunque una dignitosissima carriera quindi dimostrazione che l'estetico ovviamente non è tutto Benedusi una finta sbaglia da due punti Crespi che non riesce a controllare il rimbalzo Sirena quindi può partire attaccare in sovrannumero con Cucci che va a analizzare quindi Sorna al di sotto delle 20 lunghezze di margine 47 a 28 c'è un 6 a 0 di parziale aperto per gli ospiti Pavia che ovviamente ha approcciato con differente animo questo secondo periodo Padiraghi che prova a dare la scossa con mischiando le carte e attingendo dalla panchina quindi fuori spatti dentro Marco Torgano Rimessa in zona d'attacco per la Vinteras Benedusi per Di Bella che va a battere il raddoppio ma va a schiantarsi arbitri che non fischiano nulla e ora c'è rimessa in zona d'attacco Baldiraghi che con modalità assolutamente urbane prova a far sentire con gli arbitri ora Di Bella che va aggressivo a tentare di rubare la palla evidente il contatto e questa volta i signori piemontesi non possono esimersi dal sanzionarlo Nepi che prende il blocco di Simeoli li butta dentro soluzione appoggiata al tabellone realizzata 9 per Nepi e sono 17 di vantaggio per Pavia arriva 8 a 0 come sottolinea lo speaker Frandino Cavanna 8 a 0 per gli ospiti Di Bella che penetra scarica un ottimo pallone per Benedusi che va a chiudere il momento di sosta dell'attacco Pavese Vinteras che torna a fattorare 49 a 36 55 da giocare in questo terzo periodo Nepi che finisce per terra Benedusi che va aggressivo su linee di passaggio va all'intercetto e ora Pavia attaccherà in metà campo si va da Crespi Stepanovich che prova ad essere aggressivo su di lui c'è il fallo del giocatore in canotta numero 20 su Ricky Crespi è il secondo fallo di squadra per gli ospiti rimesso d'attacco per Pavia Benedusi a occuparsene per Mascherpa che lavora in palleggio marcato da Inbro attende che Crespi vada a piazzare il blocco poi lo serve con un missimile che Ricky controlla e va a realizzare sono 12 per Riccardo Crespi in questo match sicuramente un fattore in attacco palla per Inbro Stepanovich che va a giocarsi il mismatch con Mascherpa che prova a contenerlo fisicamente brutto tiro di Stepanovich che sbaglia rimbalzo controllato da Pavia Di Bella che vada Mascherpa che in angolo trova Benedusi extra pass di Benedusi per Torgano che si butta dentro sbaglia Crespi a rimbalzo sbaglia una conversione che sembrava piuttosto agevole signora che può ripartire sotto 51 a 30 5 a 47 da giocare in questo terzo periodo di gioco Pucci ha compiato difensivamente a Crespi gli spara una bomba in faccia sbagliando a rimbalzo va più alto di tutti Capitan Dibo che fa ripartire i suoi va per Benedusi che ha spazio aperto da tre punti sbaglia il giocatore di Pietraligure 51 a 30 5 a 22 Nepi che va fino in fondo una virata sbaglia rimbalzo contro la troppa via ora Di Bella che chiede calma guarda occhiataccia torva del capitano all'indirizzo dei fischietti perché l'ennesimo colpetto che non è stato minimamente sanzionato la scarpa in palleggio per Torgano da Benedusi in angolo ribalta al lato per Di Bella tripla da 8 metri corta Simioli che controlla il rimbalzo va via che in questo terzo periodo ha realizzato 4 punti in broda 3 punti sbaglia comodo il rimbalzo controllato da Benedusi Baldiraghi che con ampi gesti fa segno di andare fino in fondo nell'esecuzione dei giochi senza prendersi soluzioni estemporane Benedusi fuori dai blocchi il ricciolo di Mascherpa Crespi che invoca palla Mascherpa che prende la corsia centrale lo step back da due punti sbagliato il rimbalzo che anche Mascherpa vorrebbe un fallo a proprio favore arbitri che hanno deciso davvero di ingoiare i fischietti ora doppio cambio per Baldiraghi dentro del vecchio per Crespi dentro Manuelli per Mascherpa 2-8 il parziale di questo terzo periodo di gioco Pucin palleggio va da Simeoli accoperto difessivamente a Del Vecchio c'è un fallo fischiato Del Vecchio una spinta pallo del numero 15 Del Vecchio è il suo primo fallo esaurisce il bonus la Winkers Pucci aperto oltre l'arco dei 6 e 75 questa volta punisce Siena che va per il 2 a 11 di break quindi sicuramente riduce a dimensioni più umane lo scarto Torgano prova a restituire da 3 punti spaglia Pavia che ha faticato a vedere il canestro in questo terzo periodo di gioco in cui si è evidentemente abbassata l'intensità di gioco ora Del Vecchio a contenere Imbro Imbro però che gli va a segnare in faccia e canestro di Del Vecchio fallo anche sanzionato al numero 15 quindi potenziale gioco da 3 punti quindi si prolunga il parziale favorevole agli ospiti Pavia che ha staccato la spina 4-13 con possibilità di allungarlo fino a 4-14 se Imbro perfezionerà il gioco da 3 punti va a realizzare l'esterno toscano quindi sesto punto per lui 51-36 Sina che sicuramente sta difendendo con maggiore cattiveria e il metro sicuramente tollerante dei signori in grigio ha in qualche modo innervosito Pavia che ha subito qualche contatto terzo fallo di squadra per la Virtus rimessa in zona d'attacco per Benedusi Di Bella che esce si prende una soluzione da 2 punti e il capitano Pavese va a realizzare 53-36 ultimi 3 giri di orologio che vengono inaugurati in questo momento Imbro che spara da 3 punti spaglia rimbalzo controllato da Benedusi Vinteras che può ripartire può andare ad allargare nuovamente la forbice Del Vecchio aperto da 3 punti spaglia ma rimbalzo in attacco di Benedusi che poi va a consegnare a Del Vecchio che si prende la stoppata di Simeoli rimbalzo però in attacco controllato da Torgano che va a realizzare il settimo punto del suo match tornano 19 le lunghezze di margine per Pavia 55-36 2-33 Pucci ha compiato con Di Bella penetra nel cuore del pitturato trova una morbida soluzione da 2 punti dal palleggio 7 punti anche per Pucci ultimi due minuti da giocare di Bella riceve da Del Vecchio si butta in traffico prende un evidente contatto e ci mancava che non venisse fischiato neanche questo c'è il fallo di Gniecchi sulla penetrazione del regista Pavese che andrà a cercare di incrementare il vantaggio Pavese a cronometro fermo 9 punti per il Dibo quindi possibilità anche per lui di andare in doppia cifra doppia cifra che arriva in questo momento sono 10 per Di Bella 14 per Crespi 11 per Mascherpa in Casa Pavia Di Bella che va ad accomodarsi in panchina sul parchetto ritorna Filippo Faziolli 57 a 38 quindi nuovamente 19 da recuperare per Siena la tripla di Casoni che sbaglia rimbalzo controllato da Niccolò Benedusi è ottavo rimbalzo per lui Faziolli per Manueli lo sciofforte di Simeoli la rollata di Del Vecchio che riapre in angolo per Faziolli che mette palla per terra attacca Casoni fallo fischiato a Casoni minuto di sospensione chiamato da Pavia di Simeoli in l'interno di Simeoli in di Simeoli 10.16 il parziale di questo terzo periodo si riprende da Volta in auto, 57 micras, 38, la sabana BBC Filippo Pazzioni è l'induletta tiri liberi a disposizione di Filippo Fazzioli che sbaglia il primo analizza il secondo 4 punti del playmaker cresciuto nelle giovanili della Benetton Treviso 20 di vantaggio per Pavia, 58 a 38, 1.35 per arrivare alla boa di tre quarti gara ora palla persa dai Toscani con Casoni che non controlla il passaggio di Pucci Manuelli che si occupa di superare la metà campo Benedusi in uscita dai blocchi mette palla per terra, quintetto ora davvero molto molto atipico buona la smazzata di Benedusi per Del Vecchio che con l'extra pass trova Torgano 9 per Marco Torgano il consegnato tra Casoni e Imbro Fazzioli a lavorare sul esterno con i capelli rossi Pucci che va da Simeoli c'è la buona giocata in anticipo di Del Vecchio che va a recuperare palla quindi altra giocata interessante del numero 15 che sta rendendo sicuramente molto utile in fase difensiva Fazzioli chiude il palleggio, c'è il tocco di difesa ospite controlla Manuelli, prende il blocco del Vecchio Serpentina di Manuelli che scarica un buon pallone Del Vecchio però fatica a controllarlo ma prende il contatto falloso di Simeoli quarto fallo per Simeoli due tiri liberi per Fabio Del Vecchio quindi possibilità per Del Vecchio di andare a scrivere i primi due punti da quando è a Pavia è la seconda partita per l'ex giocatore di Olginate che va a mettere morbidamente il tiro libero quindi primo punto in maglia Vinteras per Fabio Del Vecchio giocatore che due anni fa ebbe la sua migliore stagione dal punto di vista delle cifre a Moncalieri con oltre 10 punti e 7 rimbalzi a partita 2-2 per Del Vecchio quindi si iscrive a Referto In bro con palla in mano marcato da Manuelli sotto per Pucci che prova a giocarsi il mismatch c'è la buona giocata di Pucci giocatore che anche all'andata ce l'ha dato particolarmente fastidio 9 per lui 10 secondi per chiudere il terzo quarto 62-40 Fazzioli con palla in mano va a scaricare per Torgano palla per terra la soluzione da due punti sbagliateci chiude qui Vinteras avanti 62-40 15-18 il parziale di questo terzo periodo nel quale Pavia è partita innestando le marce ridotte poi è bastato darsi un minimo di scossa comunque per tornare con margine di assoluta confidenza con 4 falli Simeone per la Vinteras 9 punti Torgano 8 spatti 4 benedusi 11 da scherpa 12 crespi 2 manuelli 10 di bella 2 del vecchio 4 fazioni 1 4 5 5 4 5 6 6 6 6 7 7 8 9 8 Torniamo in collegamento Cifre che per Pavia sono ovviamente scese in questo terzo periodo 50% da 2 punti, 29% da 3 punti In particolare appunto il tiro da 3 punti Ricordiamo che all'intervallo era assestato per quanto riguarda la banda Baldiraghi al 44% Quindi sceso al 29% 05 in questo terzo periodo per i paventi Tripudio per le mini cheerleader Tifo da stadio assolutamente meritato per le ragazzine Tutto pronto per partire, andare a timbrare, ad archiviare la formalità E portarsi a casa il terzo referto rosa consecutivo Che consentirebbe Tifosi che addirittura intonano la 1 Insomma direi che Di andare per gradi Pavia che parte con un intercetto Primo recupero di Benedusi Manuelli con palla in mano per Mascherpa Che attacca dal palleggio, scarica, perde il vecchio Una finta, prende il centro dell'area, chiude il palleggio, va da Spatti Che ha posizione profonda Lavora sul perno, va a sbagliare Rimbalzo controllato da Casoni No, per Pavia sarebbe il terzo referto rosa consecutivo E significato non da poco Il terzo referto rosa consecutivo Dopo la decisione societaria Di rinunciare a Iannelli e a Guaccio Quindi a premiare Quella è stata una scelta sicuramente coraggiosa Di scegliere la via di compattare il gruppo Rinunciando probabilmente a qualcosa dal punto di vista tecnico Ma guadagnando sicuramente in serenità ambientale Tiri liberi a disposizione del numero 23 Casoni Che realizza il primo 2-2 per Casoni 20 le lunghezze di margine per la Vintra 62 a 42 Mascherpa in palleggio prolungato Prende il blocco di Del Vecchio Va in angolo da Spatti Che prova a perfezionare il triangolo offensivo Andando a innescare Del Vecchio C'è un teckel di matrice calcistica Con deviazione in calcio d'angolo Quindi rimessa in zona d'attacco per Benedusi Cronometro resettato a 14 Emanuele fuori dai blocchi Riceve in questo momento l'esterno genovese Va da Del Vecchio Che in avvicinamento Prova a premiare il taglio di Spatti Però sul linea di passaggio Si inserisce Casoni Che va a recuperare Piuttosto leggibile questa giocata Quindi palla recuperata dalla Virtus Nepi che attacca Mascherpa Chiude il palleggio Torna da Pucci Che fa un'ottima giocata E manda al bersaglio Comodo comodo Casoni 9 per il numero 23 Buona giocata collettiva di Siena Che ha attaccato con pazienza Trovando un tiro ad alta percentuale Emanuele per Mascherpa Che lavora con il palleggio dietro la schiena Il tentativo di Innesco per Del Vecchio Altra palla intercettata Ora Bianchi per Nepi Che va sulla linea di fondo Riapre per la tripla Del numero 15 Sbagliata quindi Siena Che non ha punito La seconda palla persa consecutiva Di Casa Vinteras Cambio chiamato da Baldiraghi Fuori Del Vecchio Torna sul parquet Marco Torgano Torgano con palla in mano Per Manuelli Cambio difensivo su Manuelli Che ora può attaccare un lungo Scarica per Spatti Si va da Benedusi Quattro secondi Torgano che va a prendersi la linea di fondo Va a prendersi il contatto falloso di Pucci Torna sul parquet Stefano Simeoli E' proprio Pucci ad accomodarsi in panchina Manuelli che va a tagliare forte A ricevere Va a prendersi il centro dell'area Va a prendersi anche una stoppata Brutta scelta di Manuelli Ed è una novità Forza Bianchi Buona difesa di Benedusi Che va poi anche a recuperare il rimbalzo difensivo E sono nove rimbalzi per Benedusi Mascherpa che va a completare il suo slalom speciale 64-44 Tornano 20 le lunghezze di margine per Pavia Sono 7 minuti per andare ai titoli di coda Cambio difensivo con Benedusi occuparsi di Bianchi Torgano che va vicino all'intercetto C'è la tripla aperta Sbagliata da Neppi Ovvio che controlla il rimbalzo difensivo Manuelli che dà un'ottima palla per Spatti Che piazza la schiacciata Bimane 10 per Spatti Neppi con palla in mano Chiude il palleggio Va da Simeone a attaccare Spatti C'è il fallo Fallo di Spatti Corri veramente per tutti Anche per Del Vecchio Che guida 5 minuti Quindi Tribunetta Pavese Che è in vena di grande generosità Neppi alla rimessa Fuori per Casoni Per Bianchi Che in mezza ruota Trova un montaglio E va a realizzare 7 punti per Bianchi Margine che ormai è stabilizzato Attorno al ventello Di assoluta sicurezza Per Pavia Benedusi va da Spatti Palla fuori per Mascherpa Prova a attivare i collegamenti Con il pitturato Crespi che va per il semigancio E va a realizzare Top scorer dell'incontro Riccardo Crespi Sono 16 punti per lui La tripla sganciata Da Casoni che sbaglia Rimbalzo d'attacco Ma anche Neppi Sbaglia la soluzione rapida 5.27 da giocare Mascherpa in palleggio Palla per Spatti Che prova a mandare All'appoggio comodo Crespi Quindi Altro buon gioco 2 Fra i lunghi E la disposizione di Pat Baldiraghi Cambio per Mascherpa Baldiraghi Che può consentirsi In questa partita Di ampliare moltissimo Le notazioni Di dare respiro Ai giocatori Che hanno Fin qui tirato La carretta Mascherpa Ricordiamo Le ultime due partite Ha giocato E è stato Come al solito Decisivo Pur giocando praticamente Su un piede solo Con un problema Alla pianta Del piede Crespi In lunetta Va a sbagliare Il primo tentativo 0-2 per Crespi Molto vicino Alla persa Siena Bianchi Ora va A prendersi La stoppata Di Crespi Che va per l'affondata Gran giocata Di Riccardo Crespi Stoppata E contropiede Chiudo con affondata Showtime Qui sul legno Di via Treves La tripla di Bianchi Sbagliata L'imbalzo controllato Da Spatti E mentre i tifosi Lanciano il classico Coro di Sfotone Con fronte di Giannilli Reo appunto Di averli traditi Per accasarsi A Matera Crespi è andato A materializzare La giocata più Spettacolare Delle incontri Anche Spatti Vuol prendersi Il palcoscenico E piazza La tripla frontale Quindi Altra spallata Poderosa Di Pavia Che con 4.25 E avanti Fra due cuscini 73 A 46 Diamo un'occhiata Ai tabellini individuali Per Pavia Sono 11 Di Spatti 18 Per Crespi 2 di Manuelli 9 di Torgano 4 di Benedosi 13 di Mascherpa 2 di Del Vecchio 10 di Bella 4 di Fazzioli Per la Virtus Siena Sono 9 di Casoni 9 anche per Nepi 7 di Bianchi 6 di Imbrò 9 di Pucci 6 di Simeoli Allora è entrato 4 minuti 35 secondi Da giocare In questa partita Il punteggio Vedi avanti Pavia 73 46 Per il Lotto Fino a questo momento Non scontro L'incontro Di Carlo Crespi Con 16 punti Punti di Crespi Che in realtà Sono 18 4-17 4-17 da andare a chiudere Per arrivare ai titoli di coda Per arrivare comunque al terzo happy end consecutivo Dur che si muove il palleggio si prende la stoppata di Crespi che ora va per il ventello va a sbagliare Pronto sul comodo di Cambi Anche Lander Visigalli Avrà 3 minuti e spicci sul parquet Fuori Torgano Prende applausi Unesima buona prestazione di Toghi Giocatore che è sicuramente stato fondamentale in questo nuovo corso pavese un po' l'offensivo importante che ha alzato anche il rendimento di chi gli gioca al fianco esempio di un giocatore di sistema come Niccolò Benedusi Dur che ha posizione profonda in area viene attivato e va a realizzare i primi due del suo match Partita ovviamente ampiamente e totalmente in ghiaccio ormai da molti minuti questi ultimi venti sono stati una passerella sbaglia Manuelli giganteggia a rimbalzo Crespi ora però viene stoppato da Andur che ha fisicità sicuramente importante per reggere quella del centro di Saluzzo ora Andur ha aperto finisce il tiro non era male questa giocata è però la buona difesa d'anticipo di Manuelli che va a recuperare ultimi tre giri di orologio da bruciare Fazzioli aperto in angolo sbagliano a tre punti Nepi che lavora in palleggio per Bianchi che si prende una soluzione dal palleggio sbagliando rimbalzo controllato da Visigalli Pavia che può ripartire Spatti che viene innescato lanciato riapre per la tripla di Visigalli che va a realizzare tre anche per Visigalli che non è alla prima realizzazione di campionato aveva già messo una tripla in un'altra partita che Pavia aveva chiuso con largo antico fuori Crespi per la standing ovation e dentro Fabio Del Vecchio applausi molto convinti per il giocatore del 97 che davvero nel momento in cui Pavia ha rinunciato a Iannilli ha trovato importanti certezze Fazzoli ribalta per Visigalli che va da Spatti ultimi due da giocare Del Vecchio si apre da tre punti tira sbaglia rimbalzo controllato da Imbro cuo di cambi pronto a rientrare Marco Torgano Nepi con palla in mano per Imbro Mazzina di sparare da fuori poi invece va in palleggio si arresta e va a realizzare consentendo a Sena di scollinare quota 50 ritorna Torgano fuori Manuele 76-50 26 di margine per Pavia 1,33 da giocare Fazzoli che chiude il palleggio va da Del Vecchio che riapre per Torgano che prende il blocco di Del Vecchio spara da tre punti sbaglia rimbalzo in attacco controllato da Del Vecchio quindi possesso addizionale per Pavia 1,19 da giocare Toghi ora prova a giocarsi uno contro uno viene rimbalzato la difesa ospite palla vagante nelle mani Del Vecchio che prova ad innescare Torgano c'è il buon intervento in anticipo di Indur Nepi che va al ferro sbagliando entriamo ufficialmente nell'ultimo minuto di gioco Pavia che archivia la terza vittoria in fila arriva a quota 20 quindi finalmente arriva con record che dice 50% quindi 10 vittorie 10 sconfitte per i ragazzi pavesi vittoria che comunque consentirebbe di agganciare il gruppetto a quota 20 Varese in questo momento è sotto di 17 a Cecina quindi con una sconfitta dei Roburini Pavia potrebbe agganciare Varese ed Empoli a quota 20 e quindi essere comunque davvero ad un soffio dall'ottavo posto che vale il playoff Fazzioli penetra va da Visigalli 20 secondi Del Vecchio a tre punti e va a realizzare quindi arriva anche il primo canestro dal campo per Fabio Del Vecchio 79 a 50 ultimi 16 secondi di Accademia Pura il commento l'abbiamo già anticipato partita che Pavia non doveva sbagliare non l'ha sbagliata ovviamente le insidie erano sicuramente di natura mentale più che tecnica il gap tecnico è assolutamente evidente il rischio era quello di una sottovalutazione Pavia invece ha approcciato con faccia cattiva con piglio molto molto deciso ed è venuta fuori una partita di ottimi contenuti che Pavia ha controllato agevolmente prossimo appuntamento trasferta importantissima in quel di Alba mentre il prossimo match Casalingo è in programma il 17 febbraio Pavia ospiterà San Mignato prima di chiudere andiamo con i punteggi individuali Pavia chiude con 11 di Spatti 5 di Del Vecchio 9 di Torgano 3 di Visigalli 4 di Fazioni 13 di Mascherpa 2 di Manuelli 18 di Crespi 10 di Di Bella 4 di Benedusi per quanto riguarda la sovrana Pulizia Siena sono 9 di Casoni 2 di Indur 8 di Imbrò 12 di Nepi 7 di Bianchi 9 di Pucci 6 di Simeoli da Paolo Rappoccio agli amici del basket sintonizzati la più cordiale buona serata e a risentirci per il prossimo match interno della Ventras e a risentirci